Allora vi faccio vedere come realizzare questo cappellino da uomo o da donna unisex questo in realtà io l'ho pensato per un set da uomo però ovviamente questo non ha nessun è proprio la classica cuffietta corta non il cappello quello più lungo ma questa è proprio una cuffietta che rimane diciamo aderente alla testa e fatta in modo veramente molto semplice io l'ho fatta con un bordo a coste uno a uno quindi un dritto e un rovescio e il resto a maglia rasata si può fare viene molto carina anche tutta a coste quindi fatta da cima a fondo a coste io ho preferito metterci la maglia rasata soprattutto perché essendo un filato così sfumato è molto più bello come rende appunto la sfumatura come viene valorizzata dalla maglia a coste l'ho lavorato aperto e poi l'ho cuscito vedete qua è cuscito dietro si può lavorare anche in circolare se preferite quindi se siete già un pochino esperte potete anche già farlo in circolare quindi non dovrete fare le cusciture sulla mia pagina trovate lo schema completo sia per farlo aperto che chiuso quindi sulla mia pagina la casetta di lucia trovate lo schema da scaricare con tutte le istruzioni e è lavorato partendo dal bordo salendo su quindi andiamo per un pezzo tutto dritto e poi facciamo vedete queste diminuzioni fino alla punta dove le chiudiamo tutte insieme vedete così semplicemente poi con l'ultimo giro chiuderemo le maglie rimaste quindi è uno schema veramente molto semplice l'ho fatto con questo bellissimo filato norvegia della campolmi che è un filato misto lana 50 per cento lana e 50 per cento acrilico da lavorare con ferri grossi questo si lavora con ferri del 6 e dell'ho dal 6 all'8 io questo l'ho lavorato con i ferri numero 8 quindi dei ferri lineari o circolari a vostro piacere numero 8 e è un filato veramente molto bello è un misto lana e restimerino sin restringibile che si lavora veramente velocemente cioè per fare questo cappellino qua in qualche ora lo potete fare è veramente veloce da fare guardate come sono belle le sfumature che ho scelto io ci sono anche tante altre sfumature vi lascio il link alla pagina dove poterlo acquistare se volete appunto cambiare anche colore o sfumatura o anche farlo in tintonita ci sono tutte appunto le colorazioni allora le misure io sono rimasta un pochino più stretta rispetto alle misure standard perché quando lavoriamo con un filato molto grosso rischiamo di fare un cappello pesante che poi se non è abbastanza stretto se non aderisce bene alla testa scivola soprattutto un modellino così semplice quindi vedete è molto elastico quindi c'è questo veramente non ci sono problemi di misure quindi io l'ho fatto di larghezza e che poi vedete qui quando avviamo la maglia a costa e sarà più stretto quindi vi verrà 22 22 44 45 centimetri circa invece normalmente si fa di 50 49 50 io l'ho fatto 45 aperto e vi assicuro che basta perché appunto cede tantissimo il filato grosso e uguale l'altezza la fate di 20 centimetri totali all'inizio delle diminuzioni quindi verrà una striscia alta 20 centimetri senza né diminuzioni né niente quindi tutto a dritto quindi adesso vi faccio vedere come lavorarla allora iniziamo io userò questi circolari perché io sono abituata con questi però voi ovviamente potete usare dei ferri lineari perché il lavoro sarà aperto non sarà in circolare allora facciamo il nostro cappio lo mettiamo sopra il ferro e avviamo 56 maglie vi consiglio di farlo con la tecnica del codino lungo che è un po più noiosa io come linea di massima prendo tre volte la misura quindi ve lo misurate magari intorno alla testa e calcolate tre volte la misura più un piccolo codino insomma e di solito più o meno torna e avviamo vedete trovate sulla mia pagina trovate il tutorial per realizzarlo realizzare tutti i tipi di avvio nella mia pagina vi metto il link alla pagina del cappellino e abbiamo 56 maglie cercate di farlo vedete non stringete troppo ma non lasciatele neanche troppo lenti in modo che sia piuttosto regolare perché comunque questo bordo qui rimarrà a vista si vedrà perché è il bordo del cappellino allora adesso se volete lavorare in circolare ovviamente fate attenzione che non sia ruotato il sotto e lo lavorate e poi cominciate a lavorare quindi da questa parte poi trovate anche un mio tutorial su come iniziare una lavorazione in circolare se invece lo volete fare aperto quindi lo facciamo così allora adesso facciamo un po di giri a maglie a coste per fare il bordo del cappello quindi faremo un dritto e un rovescio un dritto e un rovescio fate attenzione a non sbagliare perché dopo si vedrà magari ogni tanto controllate vedete il rovescio deve avere questo nodino qua e il dritto no vedete quindi rovescio dritto imparate a riconoscere le maglie per tutte le lavorazioni è importante quindi questo giro lo faremo tutto un dritto e un rovescio fino alla fine numero pari di maglie quindi abbiamo iniziato con un dritto e finiremo con un rovescio ecco finito quindi il primo giro vedete dovremo avere tutta una serie di maglie rovesci che sono vedete questi col nodino verso di noi poi dopo li vedremo meglio e dritti invece che si presentano così con queste v verso di noi vedete rovesci hanno questa maglietta orizzontale ok il giro adesso di ritorno che sarebbe il rovescio del lavoro si lavora come le maglie così come si presentano e cioè vedete noi abbiamo finito con un rovescio quindi girando il lavoro ovviamente la prima maglia sarà un dritto quindi io faccio un dritto come ho fatto prima un dritto vedete e un rovescio vedete qui c'è il rovescio sopra il rovescio faccio un rovescio vedete in modo che vengano due magline una sopra l'altra con il rovescio adesso continuiamo i giri dal 3 al 10 sempre in questo modo un dritto e un rovescio guardate bella che è venuta questa maglia a coste con questo filato sfumato che è stupendo adesso noi siamo guardate abbiamo fatto sei centimetri in altezza quindi voi lo misurate vedete a sei centimetri circa noi abbiamo finito la fascia iniziale del cappello da qui adesso procederemo a maglia rasata quindi adesso se volete fare maglia rasata semplicemente facciamo un giro tutto a dritto su questo che è il mio dritto del lavoro poi giro il lavoro e su perché fino a questo punto qui non c'è un dritto e un rovescio perché ovviamente la maglia a coste 1 a 1 è uguale entrambi i lati quindi adesso uno dei due dei due lati sarà il dritto quello che avete deciso che sia il dritto lo fate tutto a dritto e il rovescio tutto a rovescio in modo che venga la maglia rasata cioè i dritti sul dritto del lavoro e tutti i rovesci sul rovescio ecco qua fatta la striscia quindi questa di sei centimetri più questa a maglia rasata e abbiamo in tutto 20 centimetri di altezza compresa la fascia iniziale vedete quindi arriviamo a 20 centimetri circa meglio appena meno che di più insomma 20 centimetri vedete deve arrivare circa 20 centimetri non lo fate troppo più lungo meglio che manchi qualche millimetro che sia più grande perché poi rischiate che vi faccia un po l'effetto insomma che che rimanga la punta un po più vuota che non è tanto bella quindi questo è questa qui quindi la lavorazione fino qua tutta a dritto quindi in questo in questo tipo fino a 20 centimetri di di altezza totali lavoriamo tutto a dritto senza diminuzioni né niente da qui adesso inizieremo con le diminuzioni allora abbiamo 56 maglie che io devo devo di suddividere in gruppetti di 8 quindi verranno 7 spicchi di 8 maglie ciascuno quindi adesso lavoreremo così facciamo 1 2 3 4 5 e 6 maglie quindi 6 più 2 maglie insieme quindi questa è la nostra prima diminuzione che sarà fatta da 2 maglie insieme e mettiamo qui il marca punti quindi continuiamo e facciamo 1 2 3 4 5 e 6 poi le altre due per arrivare a 8 le chiudiamo insieme quindi vedete usiamo 8 maglie e anche qui mettiamo un marca punti così dopo non dovremo più contare perché faremo una diminuzione subito prima del marca punti o dopo quando siamo sul rovescio perché le diminuzioni adesso non le dovremo fare sia sul dritto che sul rovescio quindi a ogni giro se lavorate in circolare saranno sempre sul dritto se lavorate in lineare sarà una sul dritto e una sul rovescio ok quindi continuiamo per tutto il ferro e facciamo 2 4 6 e 2 maglie insieme e mettiamo il nostro marca punti in modo che alla fine quindi arriveremo proprio l'ultima diminuzione ve la faccio vedere sarà proprio sull'ultima maglia ecco qua l'ultime maglie io qui adesso ne ho fatte 5 e poi ne ho 3 quindi mi fermo a 3 perché la diminuzione perché l'ultima diminuzione la farò non proprio sull'ultimo in modo che è più semplice poi per cucire il lavoro quindi faccio due maglie insieme e un dritto quindi qui sposto di uno le maglie insieme allora il giro a rovescio si fa così quindi filo verso di noi perché siamo sul rovescio la prima maglia sarà un normale rovescio e poi facciamo due maglie insieme a rovescio poi continuiamo tutti rovesci fino al marca punti quindi non facciamo la diminuzione prima del marca punti mi raccomando passiamo il marca punti e qui facciamo nuovamente due maglie insieme a rovescio quindi la facciamo qui la nostra diminuzione dopo il marca punti vedete quindi avremo la nostra diminuzione poi saranno una due tre quattro e cinque rovesci fino al prossimo marca punti ma ripeto non importa contate li potete contare per controllo ovviamente le due male insieme e cinque quindi tra i due marca punti avremo sei maglie mentre prima appunto avendo fatto la prima diminuzione su otto ne avevamo sette perché abbiamo già fatto una diminuzione quindi continuiamo così quindi per tutto il ferro a rovescio due maglie insieme e tutti i rovesci fino al prossimo marca punti quindi il giri a rovescio si lavoreranno tutti così ok giro numero tre vi faccio vedere ancora facciamo quindi tutti i dritti ricordatevi di tirare sempre abbastanza bene il primo che questa volta saranno quattro prima punterà sei o cinque adesso quattro e due maglie insieme prima del marca punti in modo da avere vedete gruppetti di cinque maglie quindi continuiamo così per tutto il ferro facendo tutti i dritti fino a 2 maglie dal marca punti e le due maglie prima del marca punti le chiudiamo insieme eccoci in fondo al ferro quindi soltanto 32 maglie insieme e un dritto quindi questa è la fine del ferro numero 3 vedete deve venire questa treccina bella ordinata ok giro numero 4 sempre allo stesso modo quindi prima maglia un rovescio poi due maglie insieme a rovescio quindi iniziamo sempre così di giro quindi due maglie insieme a rovescio un rovescio e un altro rovescio e questo è il primo il secondo gruppetto invece da qui ai in avanti tutti i prossimi inizieremo con due maglie insieme a rovescio sempre mi raccomando siamo sul rovescio e due rovesci ecco qua ecco adesso abbiamo quattro quindi un due maglie insieme e tre rovesci e abbiamo un gruppetto di quattro alla fine del giro numero 4 quindi continuiamo così fino alla fine del giro ecco qua giro numero 5 ma penso che a questo punto abbiate capito benissimo come si lavora quindi due dritti soli e le due maglie prima del marca punti insieme ecco qua quindi questo continuiamo anche per il giro numero 5 a fare in questo modo due dritti e due maglie insieme e anche questo giro lo finiremo così con un solo dritto due maglie insieme e un altro dritto ecco qua ok rovescio vedete qui ora per l'ultima volta faremo un dritto e due maglie insieme perché adesso rimarremo con due sole maglie quindi dopo le chiuderemo ovviamente insieme e poi le due maglie insieme prima del marca punti e un dritto per il resto del ferro quindi adesso rimarremo con due maglie tra ogni marca punti per scorrere bene il lavoro in modo che non vi si slarghi no troppo le maglie quindi due maglie insieme e un rovescio 2 maglie insieme al rovescio più rovescio fino alla fine del ferro ecco qua l'ultimo giro quindi due maglie insieme togliamo il marca punti due maglie insieme togliamo tutti i marca punti fino a rimanere con le sette maglie sul con sette maglie sul ferro che è il numero degli spicchi appunto nei quali abbiamo diviso il nostro cappelli la punta del nostro cappellino adesso nel video che vedete ne vedrete otto perché la prima volta ne avevo fatte o ne avevo fatte di più di maglie poi l'ho ristretto e l'ho rifatto però ho conservato il video quindi non fate caso se nel video ne vedete otto voi dovete rimanere con sette maglie ok adesso chiudiamo tutte le maglie e il fianco del cappellino io faccio un altro video apposta in modo che rimanga separato proprio anche per chi ne avesse bisogno per altri modelli di cappellino per farvi vedere come fare a cucire quindi nel prossimo video troverete la spiegazione se avete bisogno di aiuto appunto per fare la chiusura invisibile del cappellino grazie a tutti